Grazie, anche questo è un tema importante, perché vi sono dei comportamenti che deprimono e fanno gridare lo scandalo e che, mi rendo conto, ai vostri occhi di ragazzi e di giovani sono ancora più, fanno indignare ancora di più, dovrebbero fare indignare tutti a qualunque età per la verità, ma fanno indignare di più voi ragazzi e voi giovani. Ed è vero, la corruzione è un fenomeno che vediamo diffuso, che avvertiamo diffuso, è come se vi fosse una sorta di concezione rapinatoria della vita. La vita è così bella, convivere e stare insieme è così bello, può essere così bello in una società che è veramente un delitto, come tecnicamente anche ogni comportamento che turbi questa convivenza che potrebbe essere così bella. La corruzione, la criminalità, tutto quello che altera queste prospettive.